Che film ha fatto Avatar Frontiers of Pandora? Non lo conoscete? Conosciamo tutti il film colossal in CGI Avatar che ha incassato milioni. Beh, Ubisoft ci riprova a creare un videogioco basato su questo film. Avatar The Game già è tanto se l'ho considerato come videogioco. Avatar Frontiers of Pandora, indovinate un po'? Sì, sarà un action-adventure open world dove impersoneremo un navi alle prese con un viaggio attraverso la frontiera occidentale di Pandora. Un'area mai vista prima. Dai trailer usciti a livello grafico sembra essere convincente con il suo snowdrop engine anche perché fortunatamente uscirà esclusivamente per PC e console di nuova generazione. Sul gameplay non sappiamo praticamente nulla e non abbiamo visto praticamente nulla per cui la curiosità c'è ma centellinata con il contagocce proprio perché potrebbe essere il solito open world Ubisoft oramai stagnante da parecchio.